dunque vorrei parlare di una piccola esperienza che ho fatto due settimane fa ormai è un po di tempo che non faccio dei video mi scuso c'è un sacco di cose da fare ma quello che mi è capitato quando sono dovuto andare per motivi di lavoro a un sacco di congressi insomma c'erano dei congressi sapete tipo workshop si doveva andare ci devi andare perché insomma per mille ragioni fa parte del lavoro quindi ci devi andare anche se in verità non ti interessa molto vabbè cosa succede ci ritroviamo meglio del lavoro in germania e qui in germania c'è spesso c'è qualche grado in meno rispetto all'italia facevo un freddo boia adesso invece si sta bene abbiamo 11 gradi benone ma allora una settimana fa dieci giorni fa c'era quasi sotto zero nevicava facevo freddo boia e mi ero dimenticato di portarmi anche un po di roba calda non ero ben coperto come avrei dovuto essere perché ero poi in albergo e quindi giravo anche non proprio ben coperto e soffrivo il freddo poi entravo dentro a un un'aula dove c'è un sacco di gente sapete stipato così no c'è un'aria un tanfo che farebbe ucciderebbe un elefante no poi c'è la classica lotta no di quelli che vogliono aprire la finestra perché per far entrare un po di aria gli altri che dicono no perché entra il freddo se non mi prendo allora c'è sempre questa lotta perenne no allora sì c'è il compromesso apriamo le finestre per un po e poi però dobbiamo chiuderla poi ritorno al tanfo allora di nuovo la lotta rincomincia insomma scene anche abbastanza ridicole e vabbè cosa succede succede che io primi due giorni andata bene il terzo non mi ricordo neanche più esattamente insomma una bella mattina mi sveglio e ciò il classi i classici sintomi da influenza il naso tappato tutto così già parlava tutto il giorno così e mi ronzava la testa sentivo anche quelle vampate di calore che tipo tra poco ti stai ti becchi anche un bel febrone e insomma stavo male allora il meccanismo class poi io ho cercato naturalmente con i miei metodi i soliti metodi che leggete come al solito nel mio opuscolo che ormai doveste conoscere vedete il link anzi no credo che sia sopra a destra guardandolo dal dal video e lo potete scaricare lì il l'opuscolo di coscienza e guarigione che penso prossimamente rivedrò completamente e ne farò un libro più completo ma intanto vi può già dare delle linee guida da può già da una traccia da seguire e beh ritornato come al solito io faccio parentesi sotto parentesi sotto 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 parentesi ritornando al discorso di prima dunque insomma ero malaticcio mi sentivo male e dovevo anche andare a queste conferenze questi congressi la prima cosa che feci naturalmente di adottare le mie tecniche autosuggesti di autosuggestione e naturalmente poi di chiedermi anche da dove venisse tutta sta cosa la prima reazione meccanica della nostra educazione della nostra mente delle cose che ci sono state inculcate nella testa dalla società dai dottori dalle industrie farmaceutiche quella vabbè tutto torna no fa un freddo boia non ti sei vestito in modo adeguato entri in un'aula dove c'è un sacco di gente che chissà quanti virus e quante schifezze che ci portano dentro però se apri le finestre c'è lo sbalzo di temperatura è ovvio che ti prende il raffreddore no e io ci ho detto vabbè mi son detto vabbè vediamo se è proprio così mi sono chiesto quale potrebbe essere ancora un'altra ragione per cui adesso ti sta venendo tutta sta roba allora lì proprio mi sentivo proprio male non usava la testa raffreddore non avevo voglio volevo stare a letto insomma tipici sintomi da influenza influenzali si vabbè a non ti sei fatto il vaccino anti influenzale naturalmente questo è la ciliegina sulla torta tipica ma mi son chiesto invece quale potrebbero esserci altre ragioni interiori e ci ho messo tanto a capirlo mi sono chiesto ma cosa che stato interiore ero i giorni prima in cui partecipavo a queste conferenze e lì subito mi è venuto in mente che non avevo nessuna voglia erano delle conferenze di una noia atroce dentro di me pensavo sempre negativo sempre negativo sempre negativo no a questo qui dice queste cose ma ma quest'altro dice ma basta sempre le stesse cose così no esperienza che credo che abbiano fatto un po tutti no che dentro c'è sempre questo broncio magari fuori salve ciao come stai no ma dentro così e mi sono detto ma guarda un po proviamo a prenderla da un altro lato accettiamo poi diciamo vabbè magari portati topolino ti leggi topolino durante la conferenza non lo so portati qualcosa da leggere sotto il banco fai finta oppure vabbè ormai tanto tutti lo fanno no col cellulare o smartphone ti ti divertiti fai qualcosa che ti piace anche se devi stare lì per forza o comunque non tenere il broncio mi son detto io a me no a me stesso non tenere il broncio interiormente mentalmente e continuare sempre a pensare a questa cosa negativa che non hai voglia di stare lì che non ti interessa queste queste conferenze che fanno prova a prenderla un po con filosofia non ci pensare pensa ad altro qualcosa di positivo e poniti in una situazione interiore psicologica diversa ah beh che succede non è che si è sparito subito lì sul momento però vado a letto dormo e il giorno dopo mi sveglio non c'è più niente un po un po di raffreddore ancora c'era ma subito c'era quella sensazione che la fase acuta era già andata via non c'era più niente quasi cioè si trattava soltanto avevo avevo già raggiunto un picco e tra che ormai sapete si sente anche quando si ha quell'influenza le febbre la febbre si sente quando la cosa ancora uno stato virulento oppure si è già in uno stato di ci si si sta già l'organismo sta già migliorando lo suo stato basta e sono andato avanti per due settimane così poi no? per due settimane un freddo cane avevo freddo entro in queste aule piene di schifezze di virus probabilmente aprono e chiudono le finestre ma mai più ammalato niente basta allora che cosa possiamo dedurne? adesso io va bene ok ho fatto solo un esempio che è specifico a caso mio però quello che voglio dire è che quando ci ammaliamo invece di guardare soltanto le cause fisiche vediamo anche come stavamo in che stato mentale ci trovavamo in quel momento in cui probabilmente la malattia ha cominciato a svilupparsi è cominciato a svilupparsi che stato interiore avevamo magari il giorno precedente o due giorni prima perché oggi magari mi busco mi sveglio con l'influenza devo pensare non a quello che ho sognato adesso magari a quello all'esperienza e a quello stato interiore psicologico in cui stavo ieri e provate a vedere se si possono connettere i punti connect the dots come direbbero in inglese se si trova un filo logico un filo comune che può spiegare anche in modo alternativo il sorgere di un male di un influenza o di un banale raffreddore e lì possiamo magari anche metterci in una situazione in cui una volta che conosciamo una causa possiamo anche agire la causa era quella che tenevi il broncio beh prova a non tenere più il broncio forse magari l'influenza ti passa e questo vale naturalmente per tutte le malattie anche quelle gravi non c'è non vedo un limite di sorta in questa tecnica in questo modo di approcciarsi alla malattia e quindi alla guarigione in termini di gravità della malattia anche se poi che cosa vuol dire grave o non grave sarebbe tutto un discorso da farsi ecco ho voluto riportare questa piccola esperienza perché ho detto beh questo qui è stato anche un insegnamento mi ha fatto anche ricordare attento non tenere il broncio va bene allora non tengo il broncio ciao